rotti ennesimo paglia rotto chissà forse sono stufo di guardare spacco continuamente gli occhiali buongiorno questo riflesso qua dietro che mi dà un po ancora dai ci siamo un altro sorsetto voi forse non sapete chi sia nicolas baccaro nicolas baccaro un ragazzino milanese che non ho ben capito per quale motivo io lo conosco come cronista lo conosco comunque a un certo punto si è dato come mission quella della sicurezza io penso che un ragazzo giovane debba andare a scuola debba studiare e debba fare sport eccetera lui ha lasciato un po tutto gli studi queste cose che si dedica interamente alla sicurezza deve avere una ventina d'anni credo forse anche meno comunque mi perdoni se ho sbagliato l'età e tra e tra gli animatori e tra i creatori diciamo di un sito di una pagina social molto in voga milano si chiama milano bella da dio e poi da lui ne ha creata un'altra che si chiama mi sembra comitato cittadini per la sicurezza lui è giovane presidente vanno in giro a occuparsi di sicurezza nel senso a segnalare le anomalie in particolar modo si sono dedicati al tema della delle borseggiatrici sulla metropolitana che sono in effetti una piaga un po sottovalutata dalla dall'amministrazione comunale e hanno anche ottenuto molti risultati nel senso che loro le vedono in azione o ormai le hanno riconosciute e col megafono magari annunciano attenzione cittadini ci siano le borseggiatrici non avvicinatevi eccola una che sta per fare insomma mettono in guardia i cittadini e in effetti hanno avuto una loro utilità forse qualche volta ci sono un po intralciati con le forze dell'ordine ma in realtà credo che ci sia un accordo cosa è successo questo giovane ragazzo due due giorni fa è stato circondato da otto borseggiatrici in una fermata sotto nella tube e minacciato pesantemente da otto borseggiatrici quindi vuol dire che in un solo punto c'erano otto borseggiatrici pronte a sfilare il portafoglio il telefonino quello che era dalla borsa dallo zainetto di gente che andava a lavorare o tornava dal lavoro o andava a studiare quindi non certo a ricconi e insieme a queste otto borseggiatrici c'era persino un sedicente operatore di polizia privata in realtà non era vero ma c'era anche questo qui insomma è stato minacciato pesantemente non so se si è preso qualche pizza l'ho sentito mi 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 ha mi ha scritto era anche un po spaventato ho fatto in modo che questa storia uscisse su qualche giornale e mi e mi pongo una serie di domande da cronista e da cittadino perché dobbiamo continuare a metterci il prosciutto davanti agli occhi è ancora sottovalutato credo che veramente sia milano una città davvero poco sicura e non c'è più distinzione di quartiere inutile che anche i quartieri bene facciano dicono no ma poveretti borseggiatori no no perché tocca anche loro ci sono 13 baby gang in ita in scusate a milano una per quartiere ognuna c'è su tre per di riferimento e generalmente l'attività principale è quella di delinquere e di insidiare la sicurezza dei cittadini quello che fa nicolas baccaro insieme ai suoi ai suoi amici è lodevole però io ritengo perché o sono un cronista sono un cittadino ma sono anche un genitore che a quell'età uno dovrebbe anche occuparsi del proprio studio e della propria della propria vita diciamo di 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 giovane praticamente adolescente e che a volte un pochino ci facciamo prendere la mano dall'ego a quell'età poi è facile e ci si può poi trovare in brutte situazioni questo non toglie niente ha il suo merito e toglie molto a questa l'amministrazione della nostra città che continua pesantemente a sottovalutare il tema della sicurezza è una città che non si capisce per quale motivo debba essere così fuori mercato dove tutto costa quattro volte di più e però tu esci di casa e rischi di prenderti le mazzate dal baby gang di turno o dal bosseggiatore o dalla bosseggiatrice buona giornata grazie 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 grazie